Parcheggi, trasporti pubblici, il centro-sinistra a Pescara critica la gestione da parte dell'amministrazione Mascia. Qui siamo in via Cetteo Ciglia dove tra qualche giorno ci saranno i parcheggi a pagamento. Qual è il vostro pensiero? Questo è uno dei parcheggi a pagamento che l'Aggiunta Mascia ha deciso di rendere a pagamento, appunto all'improvviso. Saranno in tutto 720 parcheggi in aree periferie della città dove vivono le persone sostanzialmente, via Cetteo Ciglia, via Paolini, via Pastor Anciano, via Facone Borsellino, via Raffaello. Tante zone dove all'improvviso l'Aggiunta ha deciso di mettere il parcheggio a pagamento. Questo è un modo per fare cassa perché non sono zone dove è stato potenziato il trasporto pubblico locale, non sono zone dove sono state implementate le ciclabili. Quindi è soltanto un modo meschino di fare cassa nel momento peggiore per l'economia di tutte le famiglie pescaresi. È una cosa incredibile perché va a colpire davvero chi abita nelle zone. Chi ha un parcheggio sotto casa pagherà il parcheggio perché per mettere la macchina a casa, quindi non c'è neanche la scusa del lavoro oppure dello studio. È una tassa occulta che l'Aggiunta Mascia ha deciso di mettere sui pescaresi. Ci chiediamo se il motivo di questo bisogno di soldi sia coprire l'enorme buco finanziario che si sta creando su Viale Marconi dove ogni giorno cambiano i cantieri, cambiano le idee dell'Aggiunta e quindi i pescaresi pagano queste idee che cambiano. Ma fa sorridere perché è come se si aumenta il prezzo e poi si fa uno sconto inferiore all'aumento del prezzo. Qui fino a oggi non si pagava, quindi si pagherà leggermente di meno di quello che avevano minacciato. Ma è comunque che si pagherà mentre oggi non si paga, quindi non è assolutamente utile questo passo indietro che non è un passo indietro, infatti è semplicemente un modo per voler provare a prendere in giro i pescaresi che però in realtà ormai sono svegliati e hanno capito che davvero hanno di fronte semplicemente chi sta mettendo tasse su tasse.